Fabio Guarnaccia, buongiorno. Buongiorno a voi. E benvenuto, benvenuto davvero qui nel nostro piccolo posto delle parole per raccontare di questo romanzo intitolato Mentre tutto cambia. Un romanzo pubblicato dalla casa editrice Manni. Andiamo indietro nel tempo, ma nemmeno poi così tanto con questo romanzo, nel 1989, però leggo nel risvolto di copertina che Fabio Guarnaccia vive a Milano, laureato in filosofia, lavora in televisione dove si occupa di analisi dei consumi culturali e dei contenuti per l'intrattenimento e la fiction. Ora, già solo questa definizione, Fabio Guarnaccia, ci basterebbe per una conversazione. Ma brevemente, che cosa consiste questa analisi dei consumi culturali? Non è una cosa da poco. Ma tra le varie cose che faccio lì dentro c'è anche questa di analizzare quel che accade altrove, al di fuori della televisione, per cui dai libri al cinema, ai videogiochi, e a tutto il mondo della rete. Cerchiamo di analizzare quali sono i fenomeni di successo, anche perché oggi ci sono delle dinamiche diverse rispetto al passato. è tutto molto più veloce, anche l'intensità dei successi è alta, ma magari di breve durata. E quindi cerchiamo di capire quel che succede per tracciare un po' i gusti degli italiani, focalizzato soprattutto sull'Italia. Ed è un lavoro sicuramente importante, perché permette anche di capire come va il nostro sguardo, non solamente dal punto di vista della curiosità, ma come si spostano le nostre attenzioni culturali. Perché poi, in sostanza, il lavoro di Fabio Guarnaccia mi sembra di capire che occupandosi di questa analisi dei consumi c'è quindi una risposta alla nostra domanda, oppure un anticipo alle domande culturali con degli appuntamenti televisivi, ma non solo. Sì, sì, sì. Poi, come queste analisi poi possano diventare materiale per alimentare la programmazione, è indecutabile. C'è un percorso che poi sta ai produttori, agli autori. Noi, con questo lavoro, ci limitiamo a mettere insieme tutta una serie di segnali che vengono là fuori, perché poi spesso c'è la tentazione di guardare sempre più il proprio lavoro e perdere di vista quello degli altri. Una questione di tempo, una questione anche di impossibilità materiale di stare dietro a tutto quello che succede. quindi è un primo passo, è uno strumento in più da dare a chi poi si occupa di realizzare le storie e i programmi. Poi questo, in qualche modo, mi porta anche a questione personale, a incuriosirmi di tante cose che altrimenti non vedrei. Difficilmente poi tutto questo, se non altro in modo esplicito, entra nel mio lavoro di scrittore perché sono due cose che tengo abbastanza separate, però inevitabilmente mi nutro, insomma, di narrazioni e questo non può che alimentare, no? Il serbatoio delle storie e delle suggestioni. E a proposito di storie, a proposito di suggestioni, però la suggestione che a noi piace molto perché raccontando libri dobbiamo andare semplicemente per suggestioni o poco più, ed è già importante per lasciare poi, giustamente agli ascoltatori, i prossimi lettori, la possibilità di scoprire la storia. Mentre tutto cambia, è il nuovo romanzo di Fabio Guarnaccia. E partirei proprio dall'immagine di copertina di questa fotografa che ha un nome nordico, Marlene Lepanen, e la cosa che subito mi ha colpito Fabio Guarnaccia, so di dire magari una stupidaggine, però vabbè, ormai l'ho pensata, quindi la dico. La cosa che mi ha colpito di questa immagine fotografica sono le suole delle scarpe, perché mi sono detto Eh sì, questa immagine fotografica appartiene ai tempi in cui la suola delle scarpe non aveva l'importanza che ha adesso, perché oggi le suole delle scarpe sono un suolo anche di comunicazione. Beh, questa è un'osservazione interessante, vedi, è una lettura che non mi era capitato di dare alla copertina, però è vero, intanto poi le sono scarpe da ginnastica che in qualche modo rimandano a quegli anni, alla fine degli anni Ottanti, in cui incominciavano a diventare, come dire, un oggetto che comunicava qualcosa, perché sostanzialmente è da quel decennio che hanno assunto l'importanza che hanno tutt'oggi, che rimandano a una serie di mondi di significati, ma soprattutto per quel che mi riguarda, se non altro, visto che ormai sono un uomo di 46 anni, le indosso lo stesso, le sneakers, però non hanno più quel sapore di una volta, erano le scarpe che venivano consumate durante l'estate, soprattutto i lunghi pomeriggi trascorsi a spasso, ciondolare per il quartiere con gli amici, per cui in effetti sono qualcosa che rimanda alla giovinezza e al tempo libero, alla voglia di stare in giro senza preoccupazioni, anzi a quei tempi che sono poi anche come dire quelli che racconto nel libro perché i protagonisti sono dei ragazzini, hanno 14 anni, c'era il problema di riempirli quei tempi vuoti, quei lunghi pomeriggi estivi, sono dei ragazzini peraltro questi che rimangono in città, quindi hanno il tema di riempire la loro estate vuota trascorsa in città in attesa poi di partire ad agosto per qualche giorno di mare. La loro estate vuota, eh sì, di quando ancora i giorni erano interminabili, siamo poi non a cent'anni fa, siamo nel 1989, un anno importante per la storia, ma qui la storia ci porta a Milano nella periferia nord, è una periferia come tutte, le periferie piena di contrasti, piena di domande, di interrogativi che non hanno risposta, sia da un punto di vista di paesaggio urbano e sia anche dal punto di vista del paesaggio interiore, soprattutto di questi ragazzi, perché come non possiamo non volere bene a questi ragazzi che ne fanno di tutti i colori e quello che fanno anche in questo romanzo è una cosa molto difficile, loro hanno un posto, un posto particolare, nascosto, dove possono trovarsi, fare, passare il loro tempo a fare niente, a parlare, a guardare i giornaletti e così via. L'esistenza del telefonino era poco di là da venire, però rimane qualcosa di quel tempo, rimane rimane un sapore diverso quando esattamente in quell'angolo di mondo, in quel rifugio trovato c'è qualche cosa che va contro e ragazzi giovanissimi che incontrano per la prima volta una parola difficilissima ed è la parola morte ma la parola morte è legata alla droga. Loro la droga la sentivano, la conoscevano, il padre di uno di questi ragazzi era tormentato, se ricordo bene, da questa paura e come dargli torto. Però questi ragazzi baldanzosi perché sono come tutti i ragazzi sono baldanzosi ovviamente, nel loro sguardo c'è l'orizzonte del futuro uno sguardo pieno di hubris si sarebbe detto un tempo però quella morte che loro riescono a toccare con mano perché l'hanno toccata è una morte che cambierà il loro forse il loro destino e qui non diciamo più di tanto però da che cosa nasce questa questa visione Fabio Guarnaccia da una parte della periferia che è personaggio protagonista a tutti gli effetti forse ancora di più di questi ragazzi Beh quella è una periferia che oggi è molto nota a Milano perché è stata profondamente riqualificata e trasformata in un quartiere molto colorato vivace dove convive la Milano Popolare e la nuova immigrazione con diciamo la classe creativa milanese che la ha eletto a quartiere ma quando questi ragazzini sono quando vivono quando ambientata la storia nell'89 quella era ancora una periferia che risentiva da un lato della chiusura delle fabbriche perché lì siamo verso Sesto San Giovanni quindi anche chi non è di Milano ha nel suo immaginario tutte le fabbriche come quella della 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 Breda degli Innocenti che però appunto stavano lentamente chiudendo i loro stabilimenti questi stabilimenti chiusi lasciavano come dei vuoti nella nella città delle zone temporaneamente abbandonate che diventavano ricettacolo di umanità varia dai barboni ai primi immigrati ai tossici perché quelli sono anni in cui a Milano ancora muoiono circa 200 persone per overdose ogni anno il parco nord di Milano ha una storia tutta dedicata alla droga purtroppo certo anche il parco Lambro in quegli anni era non era frequentabile per quanto era malmesso e pericoloso e quindi questo è lo scenario nel quale si affacciano questi ragazzini perché l'anno prima erano ancora dei bambini e quell'estate invece spuntano come dei funghi o sbocciano e in qualche modo devono trovare uno spazio dove stare nel quartiere un quartiere che ha degli elementi di pericolosità come abbiamo detto e loro trovano questo campo dietro la loro vecchia scuola che è un campo abbandonato che è stato trasformato in una discarica ma non immaginatevi una discarica di rifiuti organici che puzza per intenderci ma è una discarica dove vengono gettati materiali edili o elettrodomestici e un po' di tutto la loro curiosità non li tiene a freno in qualche modo esplorano questo spazio come se fosse un'isola un territorio per acquistare ci passano il loro tempo finché non trovano non si imbattono inevitabilmente direi con un pericolo più grande di loro che è questo ragazzo anche anche egli un poco più grande di loro morto di overdose e per paura di perdere quel loro spazio finiscono per nasconderlo e quindi si macchiano di una colpa il loro primo contatto la loro prima scoperta con la morte e l'adolescenza tra le tante prime volte anche questo che ci sia un altro atto diretto con la morte c'è la scoperta che qualcosa esiste al di fuori di noi e questo è un incontro che per loro cambierà certamente l'estate ma non soltanto non soltanto quella vivranno le avventure che vivono gli adolescenti e quindi tutte le prime volte di quando sentiamo la vita con forza anche se non la capiamo ma con lo spettro della colpa e di questa morte che convive con loro e che finisce per inquinare le loro vite le loro relazioni complicate peraltro da famiglie molto distanti con le quali faticano a comunicare genitori che li amano ma che allo stesso tempo li lasciano liberi per esigenza perché lavorano durante il giorno e di conseguenza questi ragazzini durante l'estate sono liberi di scoprazzare indisturbati dalla mattina alla sera e in questo vuoto loro riescono comunque a fare un po' a stare insieme anche se anche se appunto sono come avvolti da da questo spettro che della colpa che li avvolge un po' come in un in un bozzolo in un bozzolo un'immagine che rimanda in qualche modo alle trasformazioni e loro vivono una trasformazione così come vive una trasformazione la città per recucire quelle ferite nel suo tessuto periferico così come sta cambiando il mondo il padre protagonista è un marxista leninista che vive una profonda crisi personale legata alla morte della madre quindi un uomo molto arrabbiato una morte tragica avvenute circostanze tragiche e però appunto in modo gioisce di questa fine della fine dell'unione sovietica perché la ritiene appunto una forma deteriorata di comunismo in qualche modo tutte queste trasformazioni che stanno avvenendo entrano nella storia ma sotto forma di emozioni e di relazioni è un libro piuttosto è un romanzo piuttosto breve che però mi ha richiesto moltissimo lavoro proprio perché avevo l'esigenza di andare a recuperare le emozioni e i sentimenti dei ragazzini non avevo nessuna intenzione di fare un trattato di storia o di sociologia e quindi queste entrano in qualche modo di disbieco senza che ce ne accorgiamo ma tutta l'attenzione è concentrata su sulle emozioni che vivono questi ragazzi e sono emozioni molto forti quelle che vivono questi ragazzi altro che forti e sono ragazzi c'è anche molta ironia perché ovviamente sono dei ragazzi però Fabio Guarnaccia in quegli spazi dimenticati ora la parola dimenticanza in questo romanzo è importante perché poi è vero i genitori sono per ragione di lavoro sono via tutto il giorno quindi non dico che si dimenticano dei figli ma i figli sono liberi tutto il giorno e quindi anche loro per certi aspetti devono riconquistare uno spazio che anche per loro è dimenticato nel conquistare uno spazio loro non avendo come si dice le famose armi nel cassetto non erano attrezzati non sono attrezzati e allora procedono per tentoni a tentoni e quindi procedendo a tentoni certamente che sbagliano ma gli errori gli errori che fanno loro sono molto più piccoli rispetto a errori a errori degli adulti Fabio Guarnaccia possiamo ascoltare un breve passo dal romanzo sì leggo alcune pagine iniziali per dare un po' il sapore l'estate del 1989 iniziò col caballero di Paolino che saliva dalla prima alla terza nel breve tratto del corsier di via Guanella tra il bar all'angolo e casa mia per poi scalare subito cupo quattro scoppi applificati dai palazzi che mi scagliarono alla finestra dove lo vidi sfilare con il best e Ivan che gli tenevano in coda con le loro bici quanto morivo dietro a quella moto mi prendeva un'invidia da starci male avrà avuto pure i problemi alla tiroide ma almeno aveva il caballero c'è uno nella casetta disse Mirko Bestetti detto il best con quell'aria d'adulto che mi faceva sentire indegno dei miei 14 anni che facciamo mi chiese Ivan erano in sella con le gambe di varicate tese come i manici di uno schiaccianoci in attesa di una mia risposta come se avessi davvero potuto ritirare quella marea di curiosità e paura che gli aveva già travolti e che stava travolgendo anche me ne approfittai per montare sul caballero di Paolino che stranamente non ebbe nulla da obiettare e andammo a vedere l'intruso lo aveva scovato Ivan mentre bighellonava incapace di starsi in casa due ore di fila era stravaccato sulla poltrona vicino all'ingresso quella dove di solito mi sedevo io immobile con gli stivaletti neri che spuntavano di fuori parcheggiamo al cancello della scuola e ci infilammo nel campo invaso da montagnole di macerie che sorgeva proprio alle sue spalle da una di queste il best raccolse un tubo di piombo di qualche vecchia cucina gas e fece segno di armarci a nostra volta scelsi un traforato rotto in due con i bordi taglienti chiedendomi cosa ne avrei fatto se avessi dovuto servirmene davvero avanzammo in silenzio verso il filare di pioppi che correva lungo la cancellata della scuola dove pochi anni prima c'eravamo conosciuti tutti anche se già allora sembrava passato un secolo eccolo disse Ivan era ancora lì con quelle sue gambe da insetto strette dentro un paio di jeans neri le punte degli stipaletti aperte verso l'esterno forse stava dormendo forse era uno di quei tossici persi che venivano a farsi nella casetta il best si avvicinò lentamente tenendoci fermi con una mano intanto che procedeva il coraggio non gli mancava di certo e nemmeno la voglia di sbatterselo in faccia era del 75 come noi ma sembrava più grande tutto sviluppato coi capelli lunghi l'orecchino il tatuaggio sulla spalla di un lupo che ulula una luna rossa Ivan gli andò dietro fregandosene dei suoi ordini io rimasi con Paolino stordito dalle cicale che riempivano quella calma indigesta con il tubo gli toccò un piede lo fece lo fece come smuovesse braci non ci fu alcuna risposta il piede tornò la sua slogatura lo smosse di nuovo e di nuovo il fuoco non si ravvivò nel braccio penzoloni bianco come gesso era infilzato una siringa mentre tutto cambia il nuovo romanzo di Fabio Guarnaccia pubblicato da Manni e qui questo ragazzo che poi verrà chiamato Troisi lo facciamo scoprire ai nostri ascoltatori prossimi lettori del perché verrà chiamato Troisi questo ragazzo però questa una cosa che mi ha colpito tra le altre Fabio Guarnaccia è che questi ragazzi non hanno poi un turpiloquio no 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 non ce l'hanno così come non è un gergo troppo insistito sulle mode degli anni 80 o sul o sul il gergo milanese a me interessava soprattutto che fosse una storia radicata certamente in quel decennio e in quella zona ma che fosse ma che fosse universale e in fondo loro sono quattro quattro ex bambini sono dei neo ragazzini e le parolacce le usano ma non ce ne sono poi così tante all'interno del libro non 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 era esattamente quello a interessarmi anche perché poi una cosa da dire è che la storia è narrata da uno di questi ragazzini il vela ormai adulto per cui c'è un po' quell'andamento e quel quel tono di chi cerca di recuperare i ricordi di una vita fa i ricordi di quando era adolescente e ha vissuto un'esperienza molto intensa quindi si avvicina con un po' anche di timore nella riesumazione di queste emozioni perché sa che facendolo le riporterà in vita e le riproverà nuovamente e quindi chi parla è comunque un uomo adulto e si avvicina loro con questa attenzione anche con 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 stupore ma anche con preoccupazione e quindi si è il linguaggio più di una memoria di chi combatte in qualche modo una lotta con la memoria per recuperare i suoi ricordi e dargli senso dargli un senso e insieme con la memoria io vorrei prima di chiudere questa conversazione introdurre un'altra parola perché vedo qui una sottolineatura tra le tante proprio all'ultima pagina nell'ultima pagina di questo romanzo senza svelare ovviamente come andrà a finire avere pietà di quel ragazzo e dei suoi genitori non è meno importante che averla dei ragazzini che siamo stati ora il senso della pietà anche questo ha bisogno di tempo Fabio Guarnaccio sì ha bisogno di tempo perché ha a che fare con il perdono e il perdono lo possiamo dare soltanto quando capiamo quando capiamo come funzionano le cose come funzionano le persone e solo allora possiamo possiamo perdonare in questo caso il narratore che è appunto un uomo adulto che ha sentito il bisogno di fare i conti col suo passato aveva bisogno di perdonare quei ragazzini quindi aveva bisogno di perdonare il ragazzino che è stato per quello che ha fatto prima dicevi degli errori che si fanno durante l'adolescenza tutti li facciamo e forse in qualche modo la nostra formazione è la storia degli errori che abbiamo fatto e come abbiamo reagito poi a quegli errori qui il narratore aveva bisogno di sentire di capire quello che è successo quell'estate e alla fine di dare un'identità umana al ragazzo morto che loro appunto chiamano prima il tossico e poi chiamano il tofa che è un modo milanese diciamo di quegli anni per definire i tossici e lo chiamano poi infine il troisi trasfigurandolo ma quello di cui ha bisogno il narratore è di recuperare l'umanità di quel ragazzo che non era tanto più grande di loro quel ragazzo morto per eroina e quindi è il viaggio che il libro compie che il romanzo compie è questo di portare a recuperare l'umanità di quel ragazzo e così facendo avere pietà per quello che gli è successo e allo stesso tempo avere pietà per quello che loro hanno fatto e finalmente perdonarsi per poter continuare a vivere senza lo spettro della colpa Fabio Guarnaccia prima di salutarci invece qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? Beh in questi giorni sto leggendo un libro di poesie che si intitola Verno di Louise Glick che è la vincitrice del Nobel per la letteratura di quest'anno ed è pubblicato dal saggiatore un libro di poesie bellissimo che suggerisco a tutti anche a chi magari normalmente non legge poesie perché ha un chiedi di narrativo e di mitologico poi lei è una poetessa bravissima americana ma il libro si intitola Averno perché perché è idealmente ambientato nella nella nostra terra al lago di Averno quindi è una bella lettura grazie grazie davvero Fabio Guarnaccio per il tempo che ci hai dedicato buona giornata grazie grazie a voi per l'interesse buona giornata grazie a tutti